Ma si svegnerà Beat Generation, culture giovanili, creatività e social media è un libro che raccoglie risultati di ricerca dell'osservatorio giovani dell'Università Federico II di Napoli. Si concentra sulle culture giovanili e sulle nuove forme di socializzazione ma anche di comunicazione dei giovani che si esprimono sempre di più attraverso le tecnologie digitali anche nei processi creativi e nei linguaggi espressivi. È un libro che racchiude diversi contributi ma soprattutto è un progetto culturale e crossmediale perché parte dal libro, si sviluppa attraverso un ciclo di seminari all'Università Federico II sul tema una trasmissione radiofonica di Radio F2 la radio dell'Ateneo Federico II e poi finisce in qualche modo in un progetto discografico Beat Generation è infatti anche un disco con diversi artisti che da Edoardo Bennato a Yalma Megretta hanno contribuito al lavoro discografico partendo da questi temi non è un caso che interviene sia nel libro che nel disco il guru della comunicazione Derrick De Kerkhove Grazie a tutti!